Allora ci siamo, il telecomando funziona? Tutto verificato, quando premi il tasto play si avvia. Bene, siamo pronti. E voi? Siete pronti? Ve lo chiedo perché io non lo ero. All'inizio tutto vi sembrerà un po' strano ma vi ci abituerete. Signore e signori, adesso di cose strane ne vedrete parecchie. Perché entreremo in un altro mondo, abitato da creature. Ma sarebbe meglio parlare di creazioni che popolano le nostre più recenti fantasie tecnologiche. Iniziate a capire, vero? Stiamo per addentrarci in quel particolare paese delle meraviglie dove si trovano le intelligenze artificiali con tutte le loro promesse e naturalmente minacce. Altrimenti cosa sarei qui a fare? Scopriremo cosa c'è di vero in questa straordinaria narrazione del presente. Scopriremo come il nostro sogno più segreto non è tanto che capiscano, ma che non sbaglino. Mai. E cercheremo di rispondere anche a un'altra domanda. Quella che si poneva a Gunther Anders nel 1956 di fronte al sorgere della potenza atomica. Le ali, senza Icaro, possono volare? Un'ultima cosa. Per un viaggiatore in terra straniera la miglior guida è quella del posto. Lasciate che ve ne mostri una. Prego Bianca, mostrati. Per un viaggiatore in terra straniera la miglior guida è un'altra domanda.